Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team Dopo 5 mesi il Pescara esce sconfitto da una partita di campionato Era il 26 marzo 2016 quando i Biancoazzurri di Oddo persero a Terni E ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, prima sconfitta in Serie A Una sconfitta maturata dopo una gran partita sul piano del gioco E mancato il gol ai Biancoazzurri, tantissime le occasioni da rete Nel contesto di una gara che ha visto la formazione di Eusebio Di Francesco Soffrire soprattutto nel primo tempo Sono stati mille i tifosi pescaresi presenti al MAPEI E il Pescara torna a casa con la rabbia di non aver conquistato un risultato che meritava Domenica prossima ci sarà la sosta di campionato Si riprenderà la domenica successiva contro l'Inter A proposito la prevendita dei biglietti per la partita con i Nerazzurri Inizierà lunedì prossimo Intanto la società ha deciso di non riaprire la campagna abbonamenti Come era stata ventilata da qualche parte E a proposito di Pescara-Inter è quasi sicuro che ci sarà l'anticipo di campionato O il sabato alle 18 o la domenica alle 12.30 Nelle prossime ore Sky comunicherà gli anticipi per le prossime partite Ed è molto probabile che sia Pescara-Inter ad essere anticipati Intanto il mercato si chiuderà tra 48 ore Mercoledì 31 agosto Finalmente finirà questo mercato Oggi non ci sono state grosse novità Sapete tutti che il difensore della Stonvilla L'Escot ha scelto l'Ecappatene Che ha superato con un'offerta sostanziosa La concorrenza del Pescara Pescara che ha come obiettivo L'arrivo di un attaccante Si fanno i nomi di Pektovic del Trapani E di Iemmello Ex Foggia che è stato acquistato dal Sassuolo Potrebbe arrivare con il prestito oneroso Sono arrivati intanto gli ultimi ospiti in studio Vado a presentare subito tre colleghi Qui alla mia destra Inizio ovviamente da Federico De Carolis Buonasera Federico Ben rivisto Al suo fianco Francesco Di Francesco Buonasera Francesco Ed è arrivato proprio all'ultimo istante Paolo Sinibaldi Buonasera Paolo Ce l'ho fatta Qui alla mia sinistra invece ritroviamo Il dirigente sportivo Fausto Perletta Buonasera Fausto Ciao Buonasera a tutti E un bentornato anche all'opinionista Riccardo Clinco Buonasera Riccardo Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini Buonasera Andrea Buonasera Enrico Subito i numeri per interagire con noi 392 623 7060 per inviare gli sms Oppure potete prenotarvi telefonicamente lo 085 93 0020 Come sempre dal nostro lato Uno sguardo social al mondo del Pescara Come sempre uno sguardo anche alle notizie di mercato Qualora arrivino a notizie importanti nel corso dei prossimi minuti E poi vi dico anche che in campo la Serie B per il completamento della prima giornata di campionato Al Manuzzi è 0-0 tra Cesena e Perugia Siamo intorno alla mezz'ora A te Enrico Intanto saluto in regia Maurizio Daguì I nostri tecnici di studio Andrea e Gaetano Allora abbiamo titolato questa sera Gran gioco senza cinismo Il Pescara ancora una volta soprattutto nel primo tempo Ha messo sotto gli avversari sul piano del gioco Tantissime occasioni da gol non sfruttate Ci sono diversi pensieri su questa partita Chi è soddisfatto della prestazione della gara dei Biancoazzurri Chi è amareggiato ovviamente perché è preoccupato Per il fatto che non si sfrutti tutto questo volume di gioco Chi chiede il difensore in più nelle ultime ore di mercato Insomma come sempre nel calcio sono sempre diversi i pensieri Intanto abbiamo visto subito la prima occasionissima di Gianluca Caprare Allora iniziamo a sentire come la pensano qui in studio Federico De Carolis qual è la tua linea di pensiero Allora io al termine della prima partita Quella con il Napoli Ero pronto a giurare che il Pescara sarebbe stata la rivelazione del campionato Delle tre squadre che sono salite in Serie A C'è sempre una che si stacca dalle altre E arriva a una posizione di classico inimmaginabile Ieri non ho ridimensionato la mia opinione anche perché è ancora possibile A patta e condizione come dice Oddo che l'ha detto Non me la sono inventata io La palla va buttata dentro Se non butti la palla dentro puoi avere la migliore difesa Un centrocampo ottimo alla fine non arrivi da nessuna parte Pescara la difesa bene o male si arrangia Anche se certi errori quelli che sono stati fatti domenica scorsa contro il Napoli Contro il Napoli e anche contro il Sassuolo Non devono succedere in Serie A Perché può capitare una squadra che viene dalla Serie B Che affronta la partita con lo stesso spirito Pensa che gli altri non siano Che l'avversario sia quello di sempre Invece in Serie A se commetti un errore Quindi insomma ti preoccupa di più l'attacco A me mi preoccupa l'attacco L'attacco ci deve essere Non è l'attacco che mi preoccupa Perché Caprari gioca bene Ci vuole uno che la mette dentro Quando gli arriva la palla Anche l'errore che c'è stato all'ultimo minuto Di Manai Di Manai Manai poteva segnare sicuramente Però certi errori si commettono in Serie A Un errore di quel genere lo può commettere anche Iguain Lo può commettere anche il più grosso giocatore Io non lo terrorizzerei Non lo colpevolizzerei Oltre i limiti Solo che ce ne vuole uno Di punti che ti garantisca almeno 10 11-12 gol Però nessuno ti garantisce 10-15 gol Cioè uno che ha fatto nel corso della sua gara O un giovane in attesa di esplosione Il giovane però c'è Manai E vabbè quello Manai c'è e resta C'è Bayback Allora io mi trasparro qui Qui te lo dico e qui lo nego Io Balotelli ci renderei a presto Balotelli Allora intanto continuiamo a sentire i vari pensieri su questa partita Dopo Reggio Emilia Federico ci ha detto Dopo il Napoli forse ero più ottimista Mi sembra di capire Ma l'ottimismo non mi è scemato Per l'amore di Dio Soltanto dico che la punta ci vuole Francesco invece Qual è la tua linea di pensiero? Ottimista come lunedì scorso Perché abbiamo visto una squadra viva La condizione atletica già migliore rispetto a quella con il Napoli Non potrebbe essere diversamente Inizio di stagione è difficile trovare una squadra che per 90 minuti Tiene lo stesso ritmo E i ritmi del Pescara nel primo tempo Sia con il Napoli che con il Sassuolo sono stati elevati Quindi è anche logico un leggero calo Che ieri non è che ci sia stato così evidente Quindi ottimista sotto questo aspetto Per il gioco, per la tenuta Per la mentalità che è quella di proporre una manovra offensiva Tutto è il contrario di tutto Poi purtroppo però Si è Caprari Adesso stiamo vedendo le immagini E poi analizzeremo i momenti più importanti Caprari gioca bene, forte Farà una grande carriera Gli auguro di non andare all'Inter Anche se l'Inter lo ha preso Magari lo dà in presto a una squadra E fa 20 gol con un'altra squadra Che poi all'Inter sono abituati A dare spazi agli italiani E ai giovani Detto questo con grande ironia E sarcasmo Però porca della miseria Al primo minuto È stato bravo sì Consigli è stato bravissimo Sì Però se lui la mette bene Consigli sul palo lungo Non ci arriva Se gli viene in mente Tanti secondi Ho capito Se stiamo analizzando Se gli viene in mente di darla a Ben Ali Ben Ali c'è la porta spalangata Però ripeto Se ci fermiamo a guardare I singoli episodi Diceva bene Federico Manai ha fatto un gol E un errore Portando palla da solo In contropiede Ci può stare Quindi io proprio Non mi sento per niente Sono accordo con Federico Di criticare Manai Bayback ha giocato poco Fisicamente Mi sembra che sia uno Che certe garanzie Le dà Perché poi il rovescio della medaglia E come dici tu Chi te li garantisce Uno che ha fatto sempre 10-15 gol Ha fatto sempre 10-15 gol Matri Borriello ha fatto sempre 10-15 gol Balotelli Stendiamo un velo e pedos Perché Balotelli Ha fatto 10-15 mila Fesseria all'anno Di gol molti di meno Allora Paolo Sinibaldi Invece Dopo questa Prima sconfitta In Serie A Hai qualche pensiero diverso Rispetto Alla prima prestazione Con il Napoli Vedi qualcosa Di Più positivo Ecco Non so Facci capire Come la pensi Anche tu Guarda Più o meno Insomma Credo che tutti quanti Siano d'accordo Che Pescara ha fatto Un grandissimo primo tempo Ha veramente messo Alle corde Il Sassuolo La partita Lì si poteva Decisamente chiudere Non ha chiuso i conti Per me Per me è una conferma Cioè dopo la buona prestazione Con il Napoli C'è stata un'altra buona prestazione Con il Sassuolo Anche se non è arrivata La vittoria O comunque Non sono arrivati i punti Ma io sono preoccupato Relativamente Perché tutte le squadre piccole Che dalla serie B Alla serie A Fanno questo grande salto Notano questa Questa clamorosa differenza Perché ieri Vedendo la partita A tratti Mi è sembrato veramente Il Pescara Dello scorso anno Che giocava A tratti dominava Un bel gioco Spettacolare Però la differenza È tutta di categoria Questa partita L'anno scorso Tu l'avresti Probabilmente L'avresti vinta Quest'anno La perdi Ora Lo scotto Dell'inesperienza Va pagato Si paga in questa maniera Speriamo semplicemente Che non ci si mettano Tante partite Per capire Come funziona E magari Se dovesse arrivare Qualcosa dal mercato In queste ultime ore Perché Effettivamente Non lo so se ne parlerà Durante il corso Della trasmissione Immagino Qualcosa manca Perché non si può chiedere Alla squadra Di fare Di fare miracoli Una domenica Dopo l'altra Perché le prime due partite Sono state ottime Non dico miracoli Ma comunque Due bellissime partite Però forse Ricordiamo Contro una squadra Che farà la Champions Di che l'altra Che fa l'Europa Quindi Però A livello di qualità Molto difficile A livello di qualità Probabilmente Questa è la differenza Perché sia in attacco Con degli errori Che abbiamo commentato E commenteremo E sia in difesa Quando evidentemente Si è vista proprio La differenza Anche di classe Di velocità Di alcuni giocatori E parliamo del Sassuolo Figuriamoci quando arriveranno Altre squadre Che cosa può succedere Però insomma Voto più che sufficiente Allora Riccardo Riccardo Cricchi Era qui Anche lunedì scorso Sollevava questa problematica Di avere delle difficoltà Nel finalizzare Il notevole volume Di gioco E si è ripetuto Anche ieri A Reggio Anzi Ieri di più Forse rispetto Alla partita Con il Napoli Paghiamo forse Un po' Di inesperienza Paghiamo il salto Di categoria Però devo dire Non a livello di gioco Non a livello di gioco Perché il Pescara Ha giocato molto bene Ha fatto delle belle triangolazioni Ti ho detto Palla a terra Due tocchi Un tocco Noi possiamo fare male a chiunque Lo confermo C'è stato un piccolo calo Nel secondo tempo Però sono d'accordo Con Francesco E abbiamo ottenuto Un ritmo molto alto E quindi è chiaro Quando parlate di calo È un calo fisico Perché poi la squadra Negli ultimi minuti Aveva anche più birra Rispetto agli avversari Come possiamo chiamarlo Un naturale Un calo naturale C'è un momento di rallentamento Tra l'altro La squadra che gioca Si è abbassata la squadra Esatto Ma la squadra avversaria Soprattutto giocando in base Che è un calo fisico È proprio un Un'adversità Beh è un calo naturale Nei 90 minuti Nei 95 minuti di gioco Tu hai anche certo Però devo dirti che Io voglio questa volta Trovare anche delle cose positive In tutto questo C'è un allenatore Che ha coraggio Un allenatore Che cerca di pareggiare Per andare Ma veramente Con un 4-2-4 Molto particolare E Tendo a dire Che andare in un campo Come il Sassuolo Che per me Attualmente Forse l'anno scorso È stata la squadra Che forse ha giocato meglio E quest'anno Lo sta comunque dimostrando Anche a livello europeo Non è facile E andare là A viso aperto È stato Un atto Ma questo è stato un po' Il refrain di questo campionato Sì Però devo dirti Che bisogna Comunque poi avere Anche i giocatori di categoria E mi allaccio al suo discorso Perché poi vedi Che hai il gioco Ma i giocatori Sono inesperti Nel finalizzare Questo tipo di gioco Nel senso che Probabilmente Quella palla di Manai L'avrebbe sbagliata Anche Icardi O anche Iguain Però Sicuramente Probabilmente Icardi Avrà più possibilità Di mandare dentro Che non Manai Perché Perché ha 19 anni Perché Per tante cose Come il discorso di Caprari Caprari ha fatto Una bellissima azione È vero Ha fatto anche Un grande parato da portiere Probabilmente Un attaccante Un centravanti Vero Magari la metteva dentro Ma con questo tipo di discorso Allora dovremmo cambiare Tutti i elementi Perché tutti sono più esperti Di quelli che abbiamo No Bisogna Che sia con calma Si rimanga Con i piedi per terra E si maturi Perché questa squadra È un frutto Bello Un po' acerbo Che deve maturare E maturerà sicuramente Fausto Perletta La tua linea di pensiero Io sono molto contento invece Sì Sono molto contento Se Non mi vengono criticità Assolutamente Voglio fare invece Un elogio A tutta la società Ai giocatori Al mister Noi abbiamo un mister Che ci invidia Tutto il panorama nazionale Non posso dire Che è tutto merito suo Perché i calciatori Comunque sono stati acquistati Della Pescara Calcio Però lui è in grado Sicuramente Di assemblare Una formazione Eccellente Che gioca Un calcio Fantastico Se devo fare una critica La faccio Invece ai media Che non parlano assolutamente Del Pescara Si è parlato Del Sassuolo Che ha vinto questa partita L'ha vinta anche con forza Ma quando mai Cioè Il Pescara Le ha proprio presi A pallonate È stato un primo tempo Fantastico La partita è fatta Di due tempi Tutto quello che volete Però i titoli di oggi Sono stati Ieri sera Sky Praticamente Il Pescara Nel altro polo Lo metteva Ma anche in classifica Non parla Ma anche col Napoli È meglio che non parli Io spero Che non continuano a parlare Se non parlo del Pescara Guarda Da come si presenta Il Pescara Io sono molto orgoglioso Del Pescara In che senso Come si presenta? Dovresti avere anche Un ufficio Promozione Per la stampa Arriva un giornalista Qui non so Non c'è nessuno A prenderlo Fa quello che gli pare Insomma C'hanno Io mi ricordo A Torino Io sono a Milano Al Milano La prima cosa Ricevevi la telefonata Dall'addetto stampa Dall'ufficio stampa Noi a Pescara Non è che si può telefonare Però tutti i giornalisti Che arrivano Ma non si può Telefonare A tutti i giornalisti Che arrivano Però un minimo Del rapporto Con i giornalisti E con i giornali Più importanti Ci deve essere Ma non è che Per questo motivo Però sui giornali Si deve negare La prestazione I giornali Non è che si negano I giornali Se tu non hai Dele pubbliche relazioni Fatte bene Non è che Forse Negli anni passati Si usava Anche così Il fatto più realistico È questo Che Pescara Al Corriere dello Sport Quando vince Lo Scudetto Il Verona Stavano tutti quanti In lutto Perché Verona È una città Che fa 250 mila abitanti 300 mila Questo è un altro Tipo di discorso La cassa di risonanza Quindi il giornale Al Pescara Non è che Gli possono dare Tutta questa risonanza Che meriterebbe Anche Se quello che ha fatto Il Pescara Adesso L'avesse fatto A Napoli Sì Nelle stesse condizioni In cui si trova Il Pescara Sarebbe tutti i giorni In prima pagina Però Fausto Dice Non si può negare La verità Della prestazione Cioè Se una squadra Ha giocato meglio Ma quelli L'hanno detto Tutti che sarà La squadra Che ha giocato Non credo Che abbia ricevuto Interessare relativamente Perché ripeto Sono talmente orgoglioso Di essere tifoso Di questa squadra Di essere questa città Che quest'anno Abbiamo veramente Una grandissima occasione Per godere Del nostro Pescara Vogliamo Giusto volevo chiudere Siccome Tutti 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 i nostri Conterrani Tifosi Cercano sempre Una criticità Invece di godere Liberi Di questo Grande Pescara Tutti vogliamo E' diventata Una piazza Troppo esigente Ma che Ulem fa Vogliamo essere Tutti professori Ti chiedo scusa Federico L'ha detto stampa Non è Le pubbliche relazioni Ma noi insieme Alla Juventus Ma non siamo La Juventus Io sono Invece orgoglioso Che siamo Una città Di centimila abitanti La volta Le pubbliche relazioni Ce l'aveva A grade Buonanimo E tutti i giornalisti Che arrivavano Stavano intorno a lui Posso inserire Un minimo di cose Velocemente Ma me ne sono dimenticato Però qui Vengono accolti bene Cioè Quelli che ci sono Vengono accolti bene Certo scusa Nell'analisi A 360 gradi Potrebbe sembrare Quasi il rovescio Della medaglia Quello che sto per dire Però in realtà Pescara Ha due partite Ha fatto tre gol E ieri Il portiere del Sassuolo È stato il migliore In campo Non aggiungo altro Che non va dimenticato Io sono stato Il primo A aver ricordato Anche perché C'erano in quel momento Le immagini Caprari Che magari Se segnava Il primo minuto Senza tantissè Il dato di fatto È che Bizzarri Secondo me Qualche colpa Sul gol C'era anche Se il tiro Era vicinato Però ci sono Siccome tutti quanti Diciamo Manca l'attacco Bisogna essere Più concreti Pescara Due partite Tre gol Non mi sembra Che ci stanno Tante squadre Che hanno fatto più gol E aggiungo Ieri consigli È stato il migliore In campo A detto di tutti A me la cosa Che mi è rimasta Invece impresso Della partita Con Napoli E quella del Sassuolo È che i giocatori Sono molto concentrati A fare il loro dovere Cioè A mettere in pratica Tutte quelle che sono Le nozioni Che insegna Durante la settimana Il tecnico È la dimostrazione Di quello che Ti voglio dire Questo è stato uno dei motivi Per cui Otto Ha voluto consegnare Il tragiatore La passata stagione Non sono riuscito A leggere Una cattiveria Che invece Aveva la padura Nel giocare Nell'arrivare al gol Mentre i calciatori Sono molto attenti A fare il loro compito Va benissimo Ora ci vorrà Un piccolo miglioramento Sotto il profitto Della cattiveria Perché noi dobbiamo Fare i gol Sei d'accordo Paolo? Il gioco del calcio E poi si contano i gol Non so se lo diceva Chi di voi due Che praticamente Cioè Oddo sta facendo Sono passate Solo due partite Un lavoro pazzesco Ma anche perché Anche il 4-2-4 Adesso non voglio sostituire I miei ai tecnici Naturalmente Però è un 4-2-4 Molto particolare Non ha mai dato punti di riferimento In nessun modo Spesso centrocampisti del Pescara Sono attaccanti I terzini fanno gli attaccanti Cioè questo Anche in fase di commento Durante la partita Si diceva Ma è vero Cioè le difese avversarie Fino a due partite Sono passate Non hanno capito molto Del gioco che sta facendo il Pescara Devono finalizzare Questo sì E' molto dispendioso E' molto dispendioso Perciò serve la punta Però questo tipo di sistema offensivo La squadra è bellissima Fatta bene Merita gli applausi Tutto quello che vorrete Però manca una punta Che ti segni i gol Ma quando una squadra fa Ma tu parli un attaccante Con caratteristiche diverse Perché altrimenti Si modifica questo sistema Non sarà preso Nessuna considerazione Anche perché Può bastare l'ambiente Tutto quello che volete Però Uno come Balotelli Mi piacerebbe Cambiare tutto E' un sogno Ma mi piacerebbe Vedere la padula Non è un sogno Perché Balotelli Sta cercando squadra Tra Chievo Palermo Non è che abbia tante richieste La padula secondo me Potrebbe anche tornare Me lo auguro Perché è l'uomo giusto Proprio per questo pescario La padula non è adesso La padula potrebbe tornare A gennaio Perché adesso Lo devono provare A meno che Montella La padula non torna Perché la prossima Partita giocherà Perché neanche squalificato Fa due gol E finisce tutta Vogliamo vedere Gli episodi decisivi Abbiamo visto le occasioni Che ha fallito Caprari Anche per merito del portiere Il primo gol del Sassuolo Non so chi Forse Riccardo Parlava prima Della trasmissione Di questa posizione Di Ghiomber Che lascia calciare De Frelle E c'è qualche responsabilità Anche da parte Del portiere Bizzarri Siete d'accordo Oppure Bizzarri Il tiro Il tiro è ravvicinato Ce ne sono anche due Ed è potente Però guarda lì Quando mette la mano Ne mette la mano È vero che lui ha Ce ne sono due Il Ghiomber Perché sappiamo che è bravo E qui dobbiamo dire Che è bravo De Frelle Allora che facciamo Non ci sta bene Non ci sta bene Che abbiamo perso Andiamo a chiusare Le ruole di Ghiomber Eh beh va bene Ragazzi Il Pescara ha fatto Vente occasione da gol Allora Noi non abbiamo segnato Per sfortuna Vogliamo dire Ma quanto l'hanno sbagliato Quelli del Sassuolo Per subire Vente occasione da gol Eppure il Sassuolo Pare che sia la squadra La rivelazione A livello internazionale Il Pescara ha giocato meglio Il Pescara Si sono accorti Come no Quindi più merito di De Frelle Che de merito Secondo me C È riuscita La storia Sul gol Sì è stato bravo lui Con il tribo Stretto No beh chiaro È stato bravissimo De Frelle Sul primo palo Magari ti aspetti Che il portiere Forse ci arrivi Però qui stiamo chiusando Perché ovviamente Stiamo cercando E con Nando scrive Abbiamo fatto gli stessi gol Quello che ho detto poco fa Tre gol In due partite Tre gol Cioè è inutile parlare Di un attaccante Se in effetti Sono stati realizzati Tre gol Ma se tu fai Venti occasioni da gol Vuol dire che Il gioco di questa squadra Ti porta a fare gol Se gli sbagli Ti porta a fare gol E anche a scoprirti Chiaramente Però è il bello Di questa squadra Se vogliamo dirla tutto Sono in grado Di andare tutti in gol Se tu Hai quattro occasioni E ce ne metti una L'avversario Ce ne ha due Ce ne mette tutte e due Sei perdente Riccardo sul gol di De Frelle Sul gol devo dire Che sì Il portiere può avere Le sue colpe Ma il tiro è stato molto forte Ma secondo me È proprio un errore Del nostro centrale Che si fa uccellare Di da un metro e mezzo Rimane sul posto A quel punto Onestamente Scusate Riccardo Questo sportivo Scrive Allora il Sassuolo Deve cambiare Quattro quinti Della difesa Perché ha lasciato 20 occasioni da gol Alla Pescara Ma io ho detto La stessa cosa Ognuno la vede Noi stiamo analizzando Una Noi stiamo dicendo Che il Pescara Esce a testa alta No 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 Questo nel contesto generale Della partita Che facciamo La gente fa posta Stiamo dicendo Che il Pescara Esce a testa alta Esatto Che certamente Non ha avuto Dalla sua Un pizzico di fortuna Ma mettiamolo Per ultimo Che ha giocato Bene Che ha giocato Molto meglio L'interpretazione Da casa Vabbè ho capito Questo è Verde Se tu mi dici Che non ti piace Verde Vabbè Ma non mi puoi venire A dire che la cravatta Quei tempi Riccardo Occasiona Sei un olcemo Probabilmente Un giocatore Con più esperienza Su quella palla Magari faceva anche Calcio di rigore Però rimaneva Rimaneva più Attaccato A De Frey Il quale Ha fatto un movimento Non eccezionale Ha stoppato la palla Si è girato All'altra parte Ha fatto una finta E' stato bravissimo E' stato molto bravo Però Però Il centrale Per donna E' tu più responsabilità Alla difesa Alla fase Allora Stiamo parlando di un'azione Non stiamo parlando Della totalità Della difesa Stiamo parlando di Quest'azione Sicuramente Rivista Poi sai È molto facile Parlare dalla Seduta Vede la televisione Però Rivista Vedi che rimane Con il doppio passo Sul posto E quello Vedi Prende un metro e mezzo A tutto il tempo Di girarsi E tirare Ecco Forse avrei preferito Magari Calcio di rigore Ma che era Magari proprio attaccato E che non si facesse Diciamo Fare queste finte Un po' Onestamente Ghiomero un po' In ritardo Zampano che non chiude Bizzarri Anche lui Stiamo parlando Di questa Azione Non stiamo parlando Della totalità In questa azione Sì Per il resto Ti dico che Complessivamente Il giocatore Nelle altre Delle due partite Ha giocato bene Allora andiamo a preparare L'azione del secondo gol Lì Solo meriti Di Berardi Questo giocatore Che è uscito anche Acciaccato Poi dalla partita di ieri Dopo Lo scontro con Cristante Sì Vediamo l'azione Del secondo gol Poi passeremo Alle due azioni Il gol di Manai E il gol fallito Da Manai Proprio Dopo il Pareggio Le altre occasioni Sono veramente tante Perché non solo Quelle di Gaprari Bru Zampano Allora Qui C'è la rispinta E il tiro a volo Di Berardi Qualcuno Sostiene anche Che C'è l'errore di Bru Ma Nell'allontanare No Di Ghiomber Non abbiamo avuto Un incontrista In quella Pazzia Ma è normale Paolo che dici No Qui anche volendo Andare a cercare Il per il nuovo Ha fatto un gran gol D'altro canto In 90 minuti Ci sta Che c'è una mischia C'è una palla Che viene ribattuta fuori Poi questo Inventa un gol Pazzesco Che poteva colpire Anche qualsiasi giocatore Sarebbe stato ribattuto Non è andata così La palla è andata in porta Io penso Che questo sia La è bravo Perché anticipa di testa Il giocatore del Sassuolo in aree No la chiusura su Berardi Che è libero di calciare In questo senso E vabbè chi è Ha tirato di testa Gli è andata lì la palla No questo è imparabile Andiamo a vedere il gol Di Manai Quando ormai Oddo aveva buttato in campo Le quattro frecce Manai Caprare Mitriza Quindi il tutto per tutto Anche lì Ha rischiato Come sa fare Solo lui 2-4 E' stato molto bravo Mitriza E' bravo Spenderai una parola Su Mitriza Che ha spezzato la partita Ha fatto veramente Una gran partita No questa è l'azione del gol fallito E vabbè lo vediamo Però c'è prima Il gol di Di Manai Andiamo a vedere Questa occasionissima Ecco il controllo Non è dei migliori Ma può succedere Come ha detto Federico Anche Ma come non può succedere A più grande Hai visto che Gli è sbattuto Come invece sbattuto No ma può succedere Poi negli spogliatoi Manai Non prenderà scuse Nel terreno di gioco Dirà Non ho controllato bene io La palla Andiamo a sentire Quindi Massimo Oddo In conferenza stampa Due minuti A fine partita Dobbiamo fare Una bella crosta A quella che è la Serie A Abituarci Capire che Quando crei Devi cercare di metterla dentro Quello che avremmo dovuto fare Nel primo tempo Per 5, 6, 7 volte E poi In Serie A Trovi giocatori come De Freel Come Berardi Che hanno un'occasione E ti fanno gol E purtroppo è così Un pizzico di sfortuna Anche Ha contribuito al fatto Che usciamo da un campo Sconfitti Con demerito Certamente Ma poi alla fine I meriti vanno sempre Alla squadra che vince Perché se da un lato C'è stata una squadra La nostra che ha giocato Ha creato E non meritava di perdere E dall'altra C'è stata una squadra Che ha meritato di vincere Perché è stata più cinica di noi E quindi Prendiamo e portiamo a casa E dall'altra parte Io sono contento Perché Esco Rafforzato Con la convinzione Che avevo prima E questo è un gruppo Una squadra che Può fare molto bene Che ha grande qualità Che ha convinzione In quello che fa E deve solo migliorare L'anno scorso Siamo partiti In Serie B Facendo grandi prestazioni E lasciando punti per strada Per alcune vicissitudini Quelle vicissitudini Della Serie A Sono altre E ci abitueremo a questo E miglioreremo A far sì che potremmo In futuro essere Anche più cinici noi Si parlava di un giocatore Del Sassuolo Nella vostra orbita Un giocatore che stasera Non era in panchina Si chiama Marcello Trotta No noi siamo a posto così Abbiamo fatto le nostre scelte Abbiamo più di due giocatori Per ruolo Quindi È ovvio che il mercato Chiude tra qualche giorno Se ci sarà la possibilità Di fare qualche Operazione interessante A livello societario Si potrà succedere Ma a livello di organico Noi siamo Siamo ben messi E lo abbiamo dimostrato Beh è stato abbastanza lucido Massimodo come sempre Ci abitueremo A questa nuova Serie A Anche a capire Quali sono gli errori Poi sul mercato Abbiamo fatto già Le nostre scelte Abbiamo due uomini Per ruolo Quindi Sgombra il campo Da altri arrivi A meno che Non ci sia la possibilità Di arrivare A un nome Importante Questo è il senso Federico Altrimenti Meglio stare così Questa squadra Io l'ho detto all'inizio Quello che abbiamo detto Non fatemi passare Per un critico Questa squadra Mi ha dato fiducia Questa squadra Così si salva Così si salva Cioè Lotta bene Per la salvezza Cioè Competitiva Per la salvezza Po sbagliare la domanda È competitiva Per la salvezza Sì Come non è competitiva La salvezza È giocato con Napoli e Sassuolo Molto in alto Questo è così Solo che Adesso Noi che stiamo criticando Due azioni Che potevano essere evitate Cioè Certo Potevi tornare a casa Da Sassuolo Abbiamo dimenticato Anche un'altra cosa Che Sassuolo È una squadra vera Una squadra forte Appunto È andato Ha vinto A Praga E quindi L'anno scorso Ha fatto quello che ha fatto Ha conquistato L'Europa League Quindi non è che Stava giocando Con l'ultima della classe Vescaro Con Napoli De riuscita Speriamo che ci riesca Anche contro l'Inter Perché è squazzato Sì Vogliamo sentire anche Eusebio Di Francesco Poi lui A microfoni spenti Ha detto Il Sassuolo In altri tempi Questa partita L'avrebbe persa Quindi anche noi Abbiamo maturato Molta esperienza Nel corso dei 4 anni Di Serie A Però mi dicono Che ci sono già Delle pronunciazioni telefoniche Scusami Francesco Poi vengo da te Pronto TV6 Pronto Buonasera Enrico Buonasera Con chi parliamo? Sono Franco Da Montesilvano Buonasera Franco Prego Senti Vi saluto A tutti gli ospiti Al salotto Sì Grazie Allora Io ieri ero A Sassuolo Devo dire Che Ti avevo detto Tutto Quasi Giustamente E non Anticipo subito Che non vogliamo Fare critiche Perché la squadra Diverti In effetti Meglio prendere 2 a 1 Che non andare avanti A catenaccia A cercare Gli 0 a 0 Perché il 2 a 1 Ti porta sicuramente Poi a ribaltare Il risultato In altre occasioni Ecco L'unica cosa Che mi permetto Così Umilmente Di dire Riguardo A gestione Delle partite Della squadra Intanto Come abbiamo Avete già detto Il Sassuolo E più avanti Voglio aggiungere Di preparazione Rispetto a noi Che il Sassuolo Con la storia Dell'Europa League Dei preliminari Si prepara Da circa Un mese e mezzo Due quasi Dai primi di luglio E questo si è visto Insomma Nella gestione Della partita Perché Aveva bisogno Di rifiatare Ci ha fatto giocare Perché il Sassuolo È più forte Di quello Che noi abbiamo visto Ieri Secondo me In questo momento In Serie A Non so se la Juve Riuscirà a battere La prossima partita Per quanto riguarda Il Pescara Noi partiamo Troppo a testa Abbasta Secondo me Siamo partita Testa bassa Con il Napoli Abbiamo ricavato Due bei gol Anche ieri Testa bassa Però Giustamente Se non sei cinico Vai a testa bassa E poi vai a sbattere Contro il muro Poi un'altra cosa Voglio dire E quindi Con 30 gradi Oltretutto Col caldo che fa Col tipo di gioco Del Pescara Dispendioso Sicuramente Poi ne risentti In un momento Che è rifiata Prendiamo il gol Un appunto Voglio fare Al portiere Perché qua si parla Di Caprari Che sbaglia Il centroavanti Che non c'è E comunque Ce l'abbiamo Ma il portiere Consentitemi Sul gol Ha il 50% La responsabilità Se l'ho andata A rivedere Poi Voglio dire L'unica cosa Che voglio dire Al mister Che è impeccabile Quasi sempre Però Tutti siamo Imperfetti E sbagliamo Il mister Ce l'ha il centroavanti Ormai C'hai questi Che c'hai E hai fatto Tutto il precampionato Con Manai Alle ore 20 e 45 Ieri Sabato alle ore 18 Ci sarà Juventus Sassuolo Il sabato Alle 20 e 45 Palermo Napoli Domenica Alle 12 e 30 Bologna Cagliari Domenica Pescara Inter Alle 20 e 45 Il lunedì 12 settembre Empoli Crotone Ecco C'è anche L'anticipo Lazio-Pescara Sabato alle ore 18 Quindi Il Pescara In anticipo Anche A Roma Con la Lazio Sabato alle ore 18 Adesso cercheremo Di vedere anche Le altre Quando mi piacerebbe Vincere a Roma Con la Lazio Allora Un attimo Perché c'è una Prenotazione telefonica Arrivo Riccardo Scusami Pronto TV6 Buonasera Rocchi Sono Guido Do San Buceto Buonasera Guido Prego Un saluto a tutti gli ospiti E in particolare All'opinionista Di Francesco Verace e diretto Vabbè Salutiamo però tutti quanti Se no qui poi Si litiga Anche gli altri Volevo fare così Una rapida valutazione Sulle due partite Lungi da me Fare processi Dare indicazioni Al mister Perché per me È il perfetto Però Per quanto riguarda Gli errori dei singoli In particolare Della difesa Se noi poi c'era Possibilità della regia Andiamo a vedere Che sia Il gol Preso col Napoli Ovvero il primo gol Che il gol Realizzato De Frel Secondo me c'è stata Così una valutazione Purtroppo sbagliata Elementare Sul movimento Perché sia De Frel È ovvio Che il pallone Se lo riportava Sul sinistro E Giomber Ha fatto il movimento Sul destro E di conseguenza Il raddoppio Di Birachi Che è mandato Che è stato mancato Diciamo E sia Il gol Di Mertens Che fa sempre E questo Stiamo vedendo Il gol Di Mertens Perfetto Fa sempre Il movimento Mertens Di rientrare Sul destro Perché è A un solo piede Diciamo E c'è mancata Sia il raddoppio Di Benali Se vediamo Da una spinta E sia La chiusura Sia di Zampano Ma anche di Giomber Che si gira Con il lato B Con il posteriore Anziché andare In contro Quindi secondo me A oddio Non possiamo Imputare niente Sono solo Errori Secondo me Proprio di lettura Dei movimenti Di ingenuità Cioè manca Quella aggressività Come ad esempio Non so Qualche difensore Del palermo Ma questa è una riflessione Mi sembra Abbastanza Vicina alla realtà Molto costruttiva Gli spazi Della porta Del tiro E non dargli Tutti quegli spazi Invece Per quanto riguarda L'attacco Lungi da me Fare nomi Altisonanti E quant'altro Mancherebbe Il lapadulo Ovvero Il finalizzatore O lo scafato Della situazione Di tutta Quella mole Di gioco Che noi facciamo Eh sì E questo è stato Un po' Il tema Discusso finora Sì Adesso che Venga Iemmelo Vabbè Già è andato E' partito Ok Qualsiasi giocatore Che però Abbia la capacità Di finalizzare Quell'amore Del gioco Io il bicchiere Lo vedo Mezzo pieno Va bene Grazie Guido Grazie Ma quando sono Ci sono queste Riflessioni Costruttive Sono anche utili No c'era Riccardo Prima di te Scusami Fausto Dove eravamo rimasti No eravamo rimasti Prima che volevo Dire Tranquillizzare Francesco Perché sul punto Dell'Inter E sul punto Del Pescara C'è una bella differenza Perché il Pescara È un gioco L'Inter Quando fa giocare Medial trequartista Vuol dire che De Bor Se va avanti così Dura ancora Un paio di settimane Pescara Inter Domenica Ore 20.45 Lazio Pescara Sabato Possiamo stare tranquilli Per questo Però ti volevo aggiungere Che probabilmente Sì È evidente Che manca Un attaccante Però onestamente Per quanto Si è visto In queste due Partite Io punterei più Sul centrale difensivo Dietro C'è proprio Uno forte D'esperienza Vedete Ognuno ha Un'esigenza diversa Perché tu Pensi che Occorra più Un centrale difensivo Forse una società E Otto Se è vero Che hanno trattato Così come è vero Che hanno trattato L'Escot Poi volevo Volevo anche rispondere Alla telefonata Quando hai detto Perché non è partito Con Manai All'inizio Ma secondo me Può rispondere solo Otto Con tutto il rispetto Per la tua idea Però tu cerchi di leggere Il pensiero No ma Vedo la partita E dico Secondo me è stata Una giusta lettura Perché comunque Se tu guardi Ha fatto tante azioni Da gol Ha treato Siamo stati Un po' sfortunato Manai per caratteristiche Che ha E anche perché Poi ha 19 anni E farlo entrare A partita E infatti è entrato Ha fatto gol Quindi per la lettura È stata giusta Per quel poco Che si è visto Perché ha giocato Uno spezzone Con il Napoli È veramente troppo poco Però Se ti devo dire In questi due spezzoni Mi ha convinto Fino a un certo punto Ma è un ragazzo Talmente giovane Talmente anche lui Inesperto Però anche sfrontato Nella comunicazione Tra poco lo sentiamo Bisogna dargli Tutto il tempo Di cui ha bisogno Certo In questi due spezzoni Mi verrebbe da dire Forse Ci sarebbe bisogno Di fare Qualche interventino Sul mercato Però è chiaro Che non è il momento Per parlare Di questo Beh no Io ti dico Sì da Finisce Mercoledì Quindi Finisce Ma io ne prenderei due Sia il difensore Sia l'attaccante Perché non è una questione Di scelta Io credo che servano Veramente questi due puntelli Sì però Sempre per il discorso Mezzo pieno O mezzo vuoto Due spezzoni di partita Ha fatto Manai Giusti Un gol Beh Andiamo a sentire Manai e Cristani Ditemi voi Ieri si sono presentati La città Non significa Se fai il gol Non significa niente E se lo fai Non significa niente Ma capisci Stai a mantenere Non lo capisco Ma hai due spezzoni Un giocatore Entra e fai il gol Vuol dire che E' entrato subito Nel vino della partita Ma devi guardarlo Nel complesso E' uno che ti dà affidamento Io non lo conosco E' uno che ti dà affidamento Perché allora Il pescano Non ha bisogno Se non ti dà affidamento Se è troppo giovane Come diceva lui Allora è entrato E fatti il gol Se dà affidamento Lo puoi dire Solo 8 Che lo vede tutti i giorni E ci lavora Sopra Io che ti dico Io dico che Siccome stiamo analizzando Le due partite Mi ha impressionato Molto bene Le due partite Stiamo parlando Però di un ragazzo Quello E' quello che io dico 19 anni Stai perdendo 2 a 0 Sassuolo Entra E dimostra una certa vitalità Sicuramente In prospettiva È un ottimo attaccante Beh non dimentichiamo Che c'è anche il buyback Però nel momento in cui poi Sono andati a prendere Le buyback È perché È perché Comunque Ci rendiamo tutti conto Che comunque Ha 19 anni 19 anni E pressoché Più di un bambino Voglio dire Quindi Ma poi parliamoci chiaro Se le cose stanno bene Così a Oddo Che ha il polso La selezione Ma perché tovice Che si fa il nome di E quello che c'è A Trapani Sì Il Trapani Quante volte ha giocato In Serie A Quante volte ha fatto Io la memoria Non mi assiste più Il vice capocanniero Lo scorso anno Nel giugno di torno Ha fatto 15 gol Sì L'anno scorso Ha 22 anni Ha fatto un super camionato In Vita Certo È un figlio di giocatore Scusa Ma magari Ma magari Papacar Ma magari Ma magari Ma magari Manai E Cristante Sì Ora non diamo la colpa Solo al terreno di gioco Perché dovevo essere Più concentrato io Però Il pallone Mi ha preso Lo stink Ho rimbalzato male Ormai Non possiamo più fare niente Un gran Ah scusami Vai Paolo Un gran pescara comunque Sì Però Dobbiamo vincere È bello 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 Ma se non brilla Alla fine Non c'è niente da fare L'impatto Con la partita Da parte tua È stato positivo Perché sei entrato in campo Hai segnato subito Il gol del 2-1 Poi hai avuto questa Grossa occasione Ma voglio chiederti Quando hai visto Scaldarsi Payback Che cosa hai pensato Dalla panchina Niente Niente Io e lui Non siamo Amici Io e lui Siamo amici Alla fine Noi andiamo tutti in campo Tutti i giocatori Andiamo in campo Per la squadra Se lui segna Io sono molto contento La squadra vince Tra l'altro Quando sei entrato in campo Hai dato subito Profondità Hai dato peso offensivo Ti senti di poter Già mettere in difficoltà Il tecnico Oddo Per la partita Contro la tua squadra Contro l'Inter Normalmente Io mi alleno Per giocare la domenica Sia in formazione Che da riserva Io vorrei Tutte le partite Giocare Ma purtroppo Non sono io allenatore Quando sarò Io allenatore Sarà un'altra cosa Ora ci sarà questa sosta Poi tra due settimane Ci sarà una gara importante Particolare per te Perché allo stadio adriatico Arriverà l'Inter Tu sei un giocatore Di proprietà dell'Inter Ci terrai E credo A giocare titolare Dal primo minuto Con i Nerazzurri Sì Come voglio giocare Titolare con l'Inter Voglio giocare anche con il Crotone Io penso che sia la stessa cosa Solo che Io quest'anno Sono in prestito al Pescara E quindi Devo fare Il più bene possibile Quindi non devo guardare Né se l'Inter E ne se sono altre squadre Penso che sia stato Un inizio positivo Però dobbiamo fare Queste partite qui Non possiamo perderle così Poi in Serie A Noi facciamo dieci tiri Non segniamo mai Per sfortuna E fortuna loro Però Loro con un tiro in porta Hanno fatto l'uno a zero E' andata così Si E' da chiederti Rispondimi se è così o no L'ultima cosa Se dovessi segnare con l'Inter Risulti? Non penso Dobbiamo continuare così Dobbiamo continuare su questa strada Proporre questo nostro gioco Continuare a correre tanto Sacrificarsi uno per l'altro Però Certamente ci manca Ci manca il gol Dobbiamo essere più cattivi Sotto porta E chiudere le partite prima Come diceva Oddo In conferenza stampa Questa sera Si esce rinfrancati Dalla prova della squadra Sì Sono le prime partite Ancora insomma Siamo un po' in Ambientamento Alla Serie A Però abbiamo dimostrato Davvero di essere una grande squadra Di proporre un gran calcio Come detto prima Ci manca solo il gol E dobbiamo farli Due partite con due grosse squadre Il Napoli domenica scorsa Questa sera il Sassuolo E Pescara ha conquistato un punto Ma sul piano del gioco Ha dimostrato di poter giocare Alla pari con tutti gli avversari Sì È importantissimo anche quella Anche se insomma Possiamo avere più punti Però abbiamo dimostrato Che ci possiamo stare Più che bene In questo campionato E che faremo Una grande stagione Ora 21 e 47 minuti L'abbiamo sentito Manai Nonostante la giovanità Paolo sembra uno Che ha le idee ben chiare Di personalità È tostissimo È tostissimo Anche come giocatore Perché è proprio È un bisonte Ha le idee chiare È giovanissimo Ma d'altronde Un po' tutti stanno dicendo La stessa cosa Cioè abbiamo giocato bene Dobbiamo buttarla dentro Perché altrimenti In prospettiva Non si va avanti Ma è chiaro Che sono passate solo due partite Il Pescara è la squadra Più inesperta Credo anche forse Una delle più giovani Del campionato È la più giovane Del campionato La più giovane Quindi Ha tutte le attenuanti In questo caso Manai ha le idee chiare E poi Secondo me Ecco il tifoso Prima diceva Bisogna dare più fiducia A Manai No quello stavo dicendo Sì bisogna dare più fiducia A Manai Però la formazione La formazione la fa Oddo E credo che In queste due partite L'abbia centrata benissimo La formazione Proprio perché Cioè non dà punti di riferimento Io credo che Manai Non sono convinto Che tante volte Partirà dal primo minuto Perché il tipo di gioco di Oddo È un altro Adesso cambiano gli interpreti Ma il tipo di gioco È quello E forse non sempre Manai partirà dall'inizio Quindi questa disposizione Col finto centroavanti Può essere davvero Una chiave di vettura Per molte gare Io penso di sì Ma anche dall'anno scorso C'era quello Poi il senso Anche perché gli permette Di avere un centrocampista In più se ne ha bisogno Quindi A te Federico Non convince questa formula No mi convince Perché non concede Punti di riferimento Agli avversari All'Inter Per esempio Non concede Punti di riferimento A una difesa Che ripeto Dopo Viene a pescare Magari cambia tutto Esplode Ma l'Inter C'è una difesa statica Proprio Bruttissima Nelle due partite Che ha giocato Non dargli un punto Di riferimento A quei giocatori Significa Essere partiti E avvantaggiati Dopo È chiaro Sì Allora abbiamo Diverse pronotazioni telefoniche Però vorrei coinvolgere Andrea Costantini Perché sono tante Le trefonate Però Andrea Mi dicevi prima Che sono tanti Gli anticipi Sì Enrico Pescara Li vogliamo dare subito Possiamo andare Sull'iPad Siamo sul sito Della Lega di Serie A Questo è il comunicato Ufficiale Possiamo scorrere Pescara Inter Domenica 11 settembre Ore 20 e 45 Quindi sarà Un posticipo Poi Ancora Sabato 17 di settembre Lazio Pescara Ore 18 Quindi sarà Il secondo anticipo Perché ci sarà Anche Sampdoria Milan Di venerdì Poi scorrendo Ci sono altre date Modificate Rispetto all'orario canonico Delle ore 15 Ecco Sabato 1 ottobre Sarà la gara Che inaugurerà La settima giornata Di andata Pescara Chievo Verona Sabato 1 ottobre Alle ore 18 Poi sabato 15 ottobre Sempre in tv Sì Sabato 15 ottobre Ore 18 Pescara Sampdoria E poi andando avanti Udinese Pescara Domenica 23 Alle 12 e 30 E poi ancora Scendendo Troveremo altri Ecco Pescara Empoli Domenica 6 novembre Ore 12 e 30 E poi Juventus Pescara Sabato 19 novembre Novembre Allo Stadium Ore 20 e 45 Penso che abbiamo concluso Sì Juventus Pescara No Enrico Abbiamo anche Roma Pescara Domenica 27 Ore 20 e 45 Domenica 27 Per la 14esima giornata Sì Forse abbiamo concluso Anche Crotone Pescara Davvero tantissime le modifiche Sabato 10 dicembre Ore 18 Crotone Pescara Chissà se si giocherà All'Adriatico O si giocherà Nell'impianto Crotone Beh la 16esima giornata Credo che il Crotone Giochi all'uscita Altrimenti giocherà Sempre a Pescara E poi abbiamo Abbiamo concluso Per il momento Ma sono tantissime Allora facciamo una cosa Perché questa grafica È stata utilissima Se potete Anzi sicuramente ci riuscirete Mettere proprio tutti gli anticipi e posticipi Del Pescara in una pagina unica Se ci riusciamo Andiamo in pubblicità E poi Torneremo a seguire anche altre interviste Oltre a sentire i nostri ospiti Qualche prenotazione da casa Tra poco Le linee e le tendenze Mutano con il passare del tempo Cogliere i cambiamenti Soddisfare le nuove esigenze Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti Il riferimento nel mondo dell'interior design A Monte Silvano Di Paolo Arredamenti È esposizione di elementi d'arredo È punto vendito ufficiale Poltrona Frau È un mondo dedicato alla comodità E alla qualità Che solo un grande marchio può darti Di Paolo Arredamenti Ti aspetta a Bellante In via Sant'Arcangelo 120 A Teramo In via De Gasperi 45 E a Monte Silvano In corso Umberto 590 Salve Sono Emilio De Florentis L'impresa funebre della nostra famiglia Nasce nel 1945 In una piccola bottega artigiana Nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio E di suo padre Emilio Da quel momento Da 68 anni la tradizione prosegue E dal 1995 Io e mio padre Alfredo Abbiamo aperto una nostra azienda Che a Pescara Ha sede in via Spaventa Nella zona dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085 66 021 Ti piace l'eleganza Ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale E cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli È quella che fa per te Una ricca esposizione di modelli Che spaziano dalla 500, 500X Panda, tipo Ed il ritorno del mito La nuova 124 Spider E poi lancia Abarth e veicoli commerciali Inoltre la concessionaria Fiat Danelli Vanta un'efficiente officina Dotata di ricambi originali La concessionaria Fiat Danelli Ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara Con ingresso in via Raffaello 30 Aperti anche il sabato Mattino e pomeriggio DZ Insurance Sport Oltre 25 anni di esperienza Nelle coperture assicurative Nel mondo dello sport Prodotti altamente mirati Per atleti professionisti Un team specializzato Per ogni disciplina sportiva O di qualsiasi altro settore A livello internazionale Questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta assicura lo sport Sono le 21 e 57 minuti Allora ricordiamo Tanti gli appuntamenti televisivi Su Skype Per il Pescara di Oddo Addirittura sono 7 Per 7 volte Il Pescara modificherà Il suo calendario A partire da Pescara Inter Domenica alle 20.45 Poi Lazio Pescara Sabato alle ore 18 Tra poco Andrea Costantini Prepareranno una nuova grafica Con tutti gli appuntamenti Delle Pescara Torniamo però Alla Mappei Perché ieri era anche la sfida Con un altro pescherese Osebio Di Francesco Che ha fatto gli elogi A Oddo A Sebastiani E' un Pescara Che lo ha entusiasmato Si è espresso così Al microfono di Paolo Renzetti Soddisfatto per questa vittoria Però sotto sotto Lo possiamo dire Eusebio Un po' dispiaciuto Perché hai regalato Un dispiacere Scusami il gioco di parole Al Pescara Ma al di là del dispiacere Devo dire che il Pescara D'essere oggettivo Avrebbe meritato qualcosina in più Però sono un pochino Mi ricorda un pochino Le partite che facevo Il primo anno io di Serie A Dove magari giocavi anche bene Contro squadre che Di un livello In questo momento Come siamo diventati un pochino Noi siamo cresciuti Però alla fine portavi a casa niente Devo fare solo i complimenti al Pescara Per l'atteggiamento Per come ha affrontato la partita Ma anche la mia squadra Perché alla fine Anche se in sofferenza Perché venivamo da un tour de force Veramente importante E si vedeva E' riuscita a saper soffrire E poi portare a casa i tre punti Avete visto le streghe Nel primo tempo Pescara che avrebbe meritato Il vantaggio Però nel calcio Quando non si segna Voglio dire Si rischia di perdere Le partite Come è accaduto al Pescara Sì sì Ma capita spesso Ti devo dire Che può succedere In questo campionato Dove si alza la qualità E hai detto Una grossa verità Perché se c'è una squadra Prima menzionale Che meritava E' il Pescara Noi eravamo un pochino Dal punto di vista Dell'attenzione Dell'applicazione Dei movimenti Sia difensivi Che offensivi Stavamo un po' dormendo E questo Per me si lega Anche tantissimo A quella che è stata Un po' la nostra trasferta A Belgrado Perché siamo tornati Alle 5 di mattina Di venerdì Per cercare Diciamo Una giustificazione Alla nostra prestazione Sebbio Ultime due domande Prima di lasciarti Gli altri colleghi La prima sul fatto Che probabilmente La tua squadra Ha pagato La gara giocata Giovedì A Belgrado Con la Stella Rossa E poi la seconda Perdonami per questa domanda Ma oggi Stasera sembrava Di giocare allo stadio Adriatico Si sentivano Almeno dalla tribuna Solo i tifosi del Pescara Ma il Pescara Ne porta tanti tifosi Perché devo fare i complimenti Prima di tutti i tifosi Per l'atteggiamento Per il modo Come sono venuti A fare la partita Ma in questo stadio Ospita benissimo Gli avversari Noi siamo Piccolini Come pubblico Spesso non dico Che il Pescara È come se avesse Giocato un pochino In casa oggi Per la gente che è venuta Ma anche tanti amici miei Sono venuti Tifando Pescara Per quello Mi dispiace Per il Pescara Ma ovviamente È il mio lavoro E porta a casa Volentieri questi tre punti Sempre Molto rispetto Per Eusebio Di Francesco Ricordiamo il primo allenatore Pescarese Che approda In Europa League Quindi anche Pescara Poi tiferà Sassuolo Abbiamo una perdurazione Telefonica Andrea Sì Intanto sul Sul posticipo Della Serie B Sì Pochi minuti fa Si è sbloccato il risultato Al Manuzzi Perugia in vantaggio A Cesera 1 a 0 Euro goal Di Guberti Ora siamo al minuto 27 Cinque minuti fa Il gol di Guberti Un destro All'incrocio dei pali Davvero splendido Quindi vantaggio per la squadra Perché forse preso dalla partita La sostituzione Deve di mettere una punta di ruolo Era molto importante Visti che stavi perdendo Posso capire che metti il centro avanti Pinto Fino a quando Tu devi riportare un risultato Positivo Anche il punticino Perché noi dobbiamo fare 40 punti 38 punti 38 sono le partite La media di un punto a partite Però se è stato bravo De Vrelle Non credo tanto Perché se gli ha dato una mano Purtroppo Il nostro portiere E il nostro centrale Invece di guardare Il movimento del corpo Deve guardare Il movimento della palla Ma questi sono errori Che il nostro mister Dirà ai propri giocatori Che non bisogna distrarsi Più di tanto Per quanto riguarda Se De Vrelle ha fatto Un grande gol Per me non è stato Un grande gol E c'è stata la complicità Dei nostri due giocatori Il signor Caprari Ha fatto un capolavoro Perché si è bevuto Il centrale In una maniera Con una pinta Meravigliosa E poi purtroppo Il ragazzo Deve ancora imparare Come si fanno i gol Purtroppo Perché se là Gli fa un lobo Un pallonetto Praticamente Quel portiere Sconsigli Non lo salvava Neanche Manara Purtroppo Ha sparato addosso Al portiere Cicce Ci può stare Però io credo Che questi errori Non li ripeteranno più Perché devono essere Più cinici Più Quindi sei fiducioso Insomma Sono molto fiducioso Perché credo Che quando giochiamo Con gli squadroni È chiaro che abbiamo Il centravanti pinto Ed è giusto Che sia così Perché dobbiamo riportare Il nostro punticino Se poi ci scappa pure il gol È ancora meglio Però dobbiamo giocare Quando stiamo perdendo Dobbiamo avere La punta di ruolo Che sia Manai Che sia Il ragazzo Di Colombo Ecco Federico Vuole Balotelli Tu sei d'accordo? No no Balotelli Che si stesse la casa Lascia perdere Non lo voglio Non lo voglio Potrebbe venire Può darsi pure Che questo ragazzo In una provincia Possa riacquistare Tutti i suoi Tutto quello che sa fare E rimettersi in discussione Dimostrare al mondo intero Calcistico Che lui è un grande giocatore Lo deve solo dimostrare Deve fare Il professionista E non può fare il bambino Ancora 23-24 anni O diventi giocatore Se no c'è stata la casa Qui la fine di Cocco Quindi lascia perdere Quindi pertanto Io sono fiducioso Il nostro misterotto Spero che È stato un po' tardivo A mettere la punta Ci posso anche stare Perché è preso lui Dalla partita Sono tutte cose Dalla sconfitta Possono emergere Grande volontà Da parte di questi ragazzi Che giocano Bellissimo calcio Grazie Abbiamo una grande squadra Io sono molto fiducioso Dobbiamo solo limare Alcuni errori Che stiamo facendo Ci può stare Perché le prime partite Ci possono stare Ma sono sicuro Che insieme Il giocatore Insieme al mister Possono migliorare Nel vero senso della parola Quello che conta È il gioco che abbiamo E che ci fanno divertire Noi andiamo allo Stato E ci divertiamo È chiaro che nemmeno i verti Quando è perdo Cicci Paziente Speriamo che questi Avremmo un pochettino Più di fortuna Però come si suol dire Il dio dello sport Premia sempre la gente Che cerca di vincere le partite Non di essere capito Approfittatore Di speculare Certo Va bene Gianfranco Grazie Grazie per questo contributo Andiamo a sentire Se c'è un'altra telefonata Poi direi di chiudere qui Perché stiamo Andando nell'ultima mezz'ora Andrea Mi dici se c'è qualcuno Ok Pronto TV6 Pronto Pronto Buonasera Con chi parliamo? Parliamo Parlate con Trentino Daraiano Sì Buonasera Con Trentino Mi chiamo Trentino Buonasera Signor Trentino Senti Ci siamo Senti Io volevo dire Che Per quanto riguarda I gol che Pescara ha preso Sia contro il Napoli Che contro il Sassuolo Sì Sì Secondo me Lì Sia contro Quando ha segnato Mertans E quando ha segnato Il primo gol Il Sassuolo 4 o 5 4 difensori su 5 Non avrebbero potuto Fare niente Perché con quei giocatori Quando si trovano in quelle situazioni È molto facile Fare il gol Quindi più merito degli avversari Insomma Eh sì Perché lì Se O guardi la palla O guardi il giocatore Insomma Non è che puoi fare tanto Infatti Se tu Se voi ci fate caso Anche il gol Che Ha fatto Cioè Quando Il primo gol Del Pescara Contro il Sassuolo Quando Mitriza È riuscito A smarcarsi Il difensore Anche lì Lui Se l'è Smarcato In una maniera Esemplare Allora Anche il difensore Del Sassuolo Dovrebbe Certo Lo dicevamo prima Con Fausto Perletta Benissimo Grazie Da Reiano Grazie Intanto Alex Forse Non è seguito Il proseguimento Perché aveva dei dubbi Aveva dei dubbi Sull'anticipo Del Pescara Pescara Inter Ricordiamo Si Disputrà Domenica Ore 20.45 Ufficiale Dal comunicato Della Lega Possiamo vedere Allora Il quadro Che ci ha preparato Che ci ha preparato Andrea Costantini Ripiloghiamo dunque Le novità Domenica 11 settembre Pescara Inter Alle 20.45 Sabato 17 settembre Lazio Pescara Alle ore 18 Sabato 1 ottobre Pescara Chievo Alle ore 18 Sabato 15 ottobre Pescara Pescara Sampedoria Alle ore 18 Domenica 23 ottobre Pescara Udinese Alle ore 12 E 30 Un altro anticipo Domenica 6 novembre Pescara Pescara Empoli Alle ore 12 E poi C'è l'anticipo Del sabato Sera Il 19 novembre A Torino Contro La Juventus Di Allegri Alle 20 E 45 Vi sorprende Questo calendario Televisivo Del Pescara Federico No Non mi sorprende Perché evidentemente La stessa Ah scusami C'è anche Roma Pescara Domenica 27 novembre Alle 20 E 45 Un altro posticipo E sabato 10 dicembre Crotone Pescara Alle ore 18 Voglio azzardare Un'ipotesi Che l'ottimismo Che ho io L'abbia avuto Anche Sky E l'abbia avuto Quelli che hanno fatto Questo calendario Cioè non si fa giocare Una squadra Alle 20 E 45 Se non Si non Non ricordo Che lo scorso anno Vedevamo il Frosinone Il Carpi Il sabato Sera O la domenica Sera La partita di cartello Spesso C'è il Pescara Perché il Pescara Esprime un gioco Ed è bello da vedere Può essere questo un motivo Secondo te Paolo Francesco Guarda Sicuramente Soprattutto nelle prime Nelle prime partite Sicuramente questo Il motivo Perché se poi tu vedi Sono tutte quante Raggruppate in questo In questo periodo Fino Chiaramente non possono fare La programmazione Per tutto quanto il campionato Certo E' chiaro che probabilmente Avranno fatto una valutazione Su quello che sta esprimendo Adesso la squadra Dal punto di vista Dello spettacolo E da qui A breve scadenza Puntano Su diverse partite serali Del Pescara Però non ci dimentichiamo Che qui è tutta una rivoluzione Del calendario Come hai visto C'erano tante altre partite Altre squadre Che sono interessate Da questi cambi di orario Che devo dire Ci mettono anche un po' di confusione Anche perché lo spezzatino Costa di sei partite Comincia dal sabato E' uno spezzatino clamoroso Veramente diventa difficile Diventa difficile Si giocano tre partite Anche l'anno scorso Perché lo seguivano di meno Negli ultimi anni da sei Seguivano la B Sono ormai molti anni Che tante volte La domenica pomeriggio Ci sono tre Quattro partite Alle quindici E l'ultima cosa su Manai Voglio chiederti Riccardo Perché so che Viene dalla tua squadra Dall'Inter Ora c'è anche Bayback In fase offensiva Caratteristiche diverse Non pensi che possano giocare insieme? Non è vero Potrebbero giocare insieme invece Perché Manai Per quello che conosco io È più centrale E gioca Come hai visto che gioca Bayback è molto veloce E quindi dovrebbe giocare C'è anche Caprari C'è anche Caprari Ma tu mi hai detto I due giocatori Potrebbero anche coesistere È difficile Però Possono coesistere Il problema Secondo me è che Manai ha questo gioco Mi è piaciuto molto Come si è espresso Tra l'altro Prendendosi la colpa Non dando colpa al terreno Ma dando colpa allo stinco E poi mi è piaciuto molto Quando ha detto Che gioco io Gioco in alto Non hai un problema L'importante è che giochi a squadra Questo è merito di Oddo Questo è Oddo Che trasmette questa squadra Perché noi giochiamo da squadra Questo secondo me Il fatto che io sono tranquillo È perché giochiamo da squadra Il problema È secondo me Che non siamo a volte Livellati di categoria Cioè Manchiamo forse Di quella cosa Che magari Con I due nuovi acquisti Che abbiamo fatto Che hanno tanti modi in Serie A Riusciamo a colmare Però c'è anche da dire Che Entrano in una macchina Molto oliata Quindi bisogna vedere Per chiedere agli amici qui sulla destra Perché è ben organizzata Con Aguilani Ha qualcosa in più Qualcosa di Veramente sostanzioso In più E poi Aguilani È un diventino Che riesce anche a fare Qualche gol Ogni tanto Beh c'è Tirando da fuori Punizioni Tiri da lontano Paolo È un acquisto Indovinatissimo Dopo Il calcio Sono sempre punti interrogativi Ci sono Paolo e Francesco Sì Assolutamente Il colpo del mercato Del pescara Anche perché Distrattamente Sono andato a rivedere Un po' la carriera Di Aguilani Negli ultimi anni Perché tutti quanti Ma chissà In che condizioni sta Io adesso Questo non lo so Lo scorso anno Ha disputato 35 partite Con 5 gol Dicono negli ultimi anni Ha giocato abbastanza I veri infortuni gravi Che ha avuto Li ha avuti In precedenza E sono tutti infortuni Che hanno tarpato La crescita Che sembrava Sicura Di Aguilani Che poi non c'è stata In realtà Volendo fare Nella squadra Scusami se ti interroppo Nella squadra campione Nel mondo di Lippi Era lui il titolare Si infortò Parliamo di un nazionale Parliamo di un nazionale Che ha fatto oltre 30 presenze In nazionale Un giocatore importante E' un giocatore Che può ricoprire Tanti ruoli Del centro campo E' un leader Pepe invece E' lo stesso discorso Di Aguilani Però la domanda Scusami Francesco Magari poi ti passo La palla facilmente No fai la domanda a Francesco La domanda è questa Enrico Ma un giocatore Con queste caratteristiche E con tutto il curriculum Che stiamo elogiando Adesso in trasmissione La domanda Da avvocato del diavolo Perché sceglie di venire A Pescara Una matricola Della serie A Prendendo molti meno soldi Di prima Di prima C'è dell'anno scorso E non è neanche vecchissimo Giocava a Lisbona Ma non è neanche Il giocatore finito Voglio dire Il giocatore di 32 anni Perché? No no Io faccio l'avvocato del diavolo Non perché io sono convinto Che sia un colpo del mercato Ma perché? Io penso che lui E uno dei motivi Dicono Non ve lo sto dicendo E tre ore sto parlando Uno dei motivi Siccome la moglie è di Roma La moglie Diciamo chi è L'attrice Quattro ciocche C'è anche questo Che Oddo Oltre ad essere un bravo allenatore E anche una figura Che nel calcio internazionale È molto apprezzata Aquilani ha detto Conoscevo Massimo Oddo Mi piace come gioca il Pescara E quindi Mi troverei bene In quella squadra È vicino Roma Anche questa è una motivazione E poi il procuratore È rimasto molto colpito Lo ha detto Anche a microfono Spenti Ha scelto la città più bella del mondo Bravo Riccardo Questa è la risposta Francesco Ha scelto la città più bella del mondo Aggiungo secondo me Un ultimo Che evidentemente Tutti questi che capiscono Di calcio Che stanno in Serie A Da tanti anni A nessuno è venuto in mente Che Aquilani È un giocatore Che poteva fare comodo A tutte Ho capito Però evidentemente È venuto in mente Evidentemente Oddo È venuto in mente De Balotelli E poi non se ne fa niente Evidentemente Oddo lo ha Convinto Il Pescara è stato bravo A prendere La stessa cosa La stessa cosa di Pepe Intanto sono due giocatori Graditissimi a Oddo Che E li ha voluti Oddo E poi Pepe è un altro Che può dare una mano Anche sul piano Dell'esperienza Nello spogliatoio Durante gli allenamenti Pepe è un giocatore Dopo l'infortunio Si è ripreso È un giocatore L'anno scorso L'anno scorso L'anno scorso con il Cievo 23 presenze Non le Non saranno Non gli porti via la palla Neanche Solo a Mars 23 presenze Complete Non perde mai Sono due buoni acquisti Fortissimo Sono contentissimo D'Aquilani Ma io penso che Il vero colpo di mercato De Pescara È stato Oddo La conferma di Oddo A seguire La conferma del gruppo E quindi di conseguenza Un gioco acquisito Da perfezionare Poi negli ultimi 10 minuti Vedremo Cosa Può succedere In queste ultime 48 ore Di mercato Pubblicità E ne parleremo in studio A tra poco DZ Insurance Sport Oltre 25 anni di esperienza Nelle coperture assicurative Nel mondo dello sport Prodotti altamente mirati Per atleti professionisti Un team specializzato Per ogni disciplina sportiva O di qualsiasi altro settore A livello internazionale Questa è la DZ Insurance Sport Zampa corta Assicura lo sport Le linee e le tendenze Mutano con il passare del tempo Cogliere i cambiamenti Soddisfare le nuove esigenze Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti Il riferimento nel mondo Dell'interior design A Montesilvano Di Paolo Arredamenti È esposizione di elementi d'arredo E punto vendito ufficiale Poltrona Frau È un mondo dedicato alla comodità E alla qualità Che solo un grande marchio Può darti Di Paolo Arredamenti Ti aspetta a Bellante In via Sant'Arcangelo 120 A Teramo In via De Gasperi 45 E a Montesilvano In corso Umberto 590 Salve Sono Emilio De Florentis L'impresa funebre Della nostra famiglia Nasce nel 1945 In una piccola bottega artigiana Nel cuore di Pescara Vecchia Dall'intuizione di mio nonno Emilio E di suo padre Emilio Da quel momento Da 68 anni La tradizione prosegue E dal 1995 Io e mio padre Alfredo Abbiamo aperto Una nostra azienda Che a Pescara A sede in via Spaventa Nella zona dello Staglio Adriatico Alfredo e Emilio De Florentis 085-66-021 Ti piace l'eleganza Ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale E cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli È quella che fa per te Una ricca esposizione di modelli Che spaziano dalla 500 500X Panda Tipo Ed il ritorno del mito La nuova 124 Spider E poi lancia Abarth E veicoli commerciali Inoltre La concessionaria Fiat Danelli Vanta un'efficiente officina Dotata di ricambi originali La concessionaria Fiat Danelli Ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara Con ingresso in via Raffaello 30 Aperti anche il sabato Mattino e pomeriggio Ore 22 e 20 minuti Allora gli ultimi 10 minuti di trasmissione Li dedichiamo a queste ultime ore di mercato In apertura Intanto abbiamo detto Che la campagna abbonamenti Non verrà riaperta La prevenza dei biglietti Per la partita con l'Inter Inizierà lunedì prossimo Mentre mercoledì Si chiude il mercato Obiettivi del Pescara Pektovic del Trapani Il bomber che nel giurone di ritorno Ha lanciato lo scorso anno La squadra di Cosmi Ai playoff Addirittura nel ritorno Fece un gol In più di Lapadula Gran fisico Alla Ibrahimovic E poi L'obiettivo è su Iemmello Ex Foggia Che è stato acquistato dal Sassuolo E potrebbe arrivare col prestito oneroso Ad esempio Tu Federico Preferiresti Più un Pektovic O più Iemmello Mi sembra un giocatore Molto più sostanzioso Di Iemmello Insomma Non li conosco Pektovic lo conosco Iemmello non lo conosco tanto bene Però mi sembra che Pektovic siano Ecco elementi del genere Possono Buone garanzia L'ho visto contro il Pescara Come si muoveva Come si è mosso Come ha giocato E quindi Oddo ovviamente In primo piano Mette Pektovic Del Trapani Io ripeto Mi sto con quelli che ho Iemmello sarà bravo Io non l'ho visto mai Giocare Ma viene dalla C Non è a dire No Pure Lapadula Veniva dalla C Intanto era la B E pure Lapadula Ha fatto 30 gol dopo Infatti proprio Questo tifoso scrive Si ricorda che il Pescara Quest'uomo è il Chiorri Dalla Serie D Lapadula Dalla Lega Pro Facendo diventare cannonieri Io aspetterei a criticare Nessuno sta criticando Nessuno sta criticando Chi ha criticato Parla di una questione Di età La grafica Stiamo dicendo Che Manai Buttato nella mischia Ha fatto subito gol Quindi bravo Beibec Un altro tifoso scrive Ieri su 14 giocatori impiegati 11 avevano meno di 24 anni L'ha detto Primo Paolo Esatto Abbiamo detto che è un frutto Per il momento acerbo Che sta maturando Non ci vuole anche un po' di tempo E' vero che in Serie A Hai poco tempo Però No abbiamo tutte le caratteristiche Per migliorare E ti volevo dire Di un giocatore Tra IML e Pekovic Ci sono giocatori Bravi entrambi Ce l'hai fatta farlo Una risata a Carlo Perché Abbiamo Diversi colori Sul verde Ma ovviamente Carlo Carlo è simpatico Questo è verde pisello Fausto Tu staresti bene anche così Ma senti Enrico Pekovic è un giocatore Intanto la notizia più importante Scusami E' questa Che Verre Non sarà ceduto Questa è un'ottima notizia La società ha deciso Di non rischiare più nulla Verre Ha avuto diverse richieste Se vogliamo Questa è l'operazione Pekovic è un ottimo giocatore Leone E' stato molto vicino a lui Due anni fa Quando lo acquistò Per il Lanciano Ha anche un bel caratterino Dalle sue origini E' una persona Che è Diciamo Difficile Da inserire nel gruppo Infatti rinunciò Al trasferimento Al Lanciano E' chiaro che Avendo avuto Già un accordo Due anni fa Leone Si rifà avanti Per portarlo a Pescara E' un talento E' sicuramente un talento E' un giocatore di serie B Ha fatto credo 14 gol l'anno scorso Il costo è di 2 milioni e mezzo Si Loro vorrebbero L'acquisto 2 milioni di euro Il Pescara mi sembra Che gliene ha offerti 1 e mezzo Ma ci risulta qualcosa in più Però Vabbè Sui 2 milioni Beh Insomma E' un buon acquisto E' un altro E' un altro Prospetto importante Per una squadra come il Pescara Di giovani Da affiancare a Manai Da altra Quindi secondo voi Allora per chiudere Cosa succederà In queste ultime 48 ore Poco Grinco Io ritengo che Noi siamo a posto così Tranne che Due acquisti Mi auguro Un centrale dietro Di esperienza E un attaccante Pectui sarebbe La ciliegina sulla torta Assolutamente Con tutto il bene Che voglia Mario No a Balotelli Non è il suo ambiente Non si ambienterebbe Secondo me Non andrebbe bene Però Se si ambientasse Se si ambientasse Ma E' un ragazzo Con un carattere Molto particolare Non ha mai fatto Si è mai ambientato In nessuna squadra Che è andato Adesso voglio dire E' un rischio Nel senso che Come qualità Tecniche Non lo discutiamo nemmeno Perché è fortissimo Però In una squadra Oddo Gioca da squadra Dicevo che la mia È una provocazione Sì ma la provocazione Guarda che Balotelli Come giocava nell'Inter Era quello Che si metteva La cuffia E si straneva Tutto il gruppo Questa è una squadra Che gioca col gruppo E serve ai giocatori Che fanno gruppo Paolo Sinibaldi Ti aspetti Qualche colpo A sorpresa Dell'ultimo momento Oppure È diverso Un po' Dalle altre sessioni Di mercato Non mi aspetto Grandi Grandi colpi Anche questi nomi Che abbiamo fatto Sono dei nomi Diciamo Importanti Però Non so fino a che punto Potrebbero fare la differenza Nell'organico del Pescara Tra l'altro Poi Se tu mi dici Che Oddo Gradisce La figura Diciamo Tecnica Tattica Di Petkovic Prendo per buono Quello che dici Però in realtà Mi sembra che Non sia Propriamente Il tipo di giocatore D'attacco Che almeno Nel periodo Che ho visto Oddo Fare l'allenatore Qui Insomma Adesso Sono diverse Stagioni Non mi pare Che possa essere Troppo statico Secondo me Sì ma lo dico io Chiaramente Se tu hai delle fonti diverse Prendo per buone No però Lui non è malvagio Anche nella manovra Semmai Semmai Forse Iemmello Potrebbe risultare Più consono A questo tipo di gioco Però è anche vero Che Iemmello Viene da Due categorie sotto Anche se Se ne era parlato Già All'inizio Della stagione estiva Del mercato Come possibile Colpo del Pescara Non è assolutamente Da sottovalutare Perché se è vero Che è stato preso In esame Da squadra di Serie A È un ambito Francesco Per la fase Per la difesa Ovviamente Preferiresti Un uomo di esperienza Sicuramente Ti fa il nome Per esempio Sempre di Stendardo Però Ci sono anche Trattative in corso Per questo giocatore È uno dei tanti nomi Questi avevano Deve assicurare Deve assicurare 15 partite 18 partite Poi ci sono altri centrali In Serie A Ci vorrebbe campagnare Pektovic Tutto sta a crederci Se Oddo dice Va bene La società È facile Faccio la premessa Parlare con il portafoglio Degli altri Però è un investimento Pektovic Ha 22 anni 23 anni 23 Capisco che Due milioni Di euro Non sono O quant'è che ne vuole Il Trapani Non sono bruscolini Ma se poco poco Questo viene in Serie A Non dico danno Ma fa una Dicina di gol Ditemi poi un altro anno Quando può valere Buon giocatore A quell'età In prospettiva Bravo A quell'età Con quel fisico E con la carenza Di attaccanti che ci sono In prospettiva E sicuramente E poi in uscita Dovrebbero esserci Pigliacelli Aresti C'è una trattativa Anche per Selasi Perché avrebbe poco spazio Adesso con Aquilani In quel ruolo C'è anche Bruno Pepe Come Pepe? Al centrocampo Pepe Sì Però La posizione di Selasi È un po' diversa Pepe agirebbe più Sulla fascia Come alternativa Almeno per i doppi ruoli Pepe l'anno scorso A Verona Ha giocato quasi sempre Però Selasi È uno che deve giocare Sì è logico Vabbè Per Selasi Un prescito Credo che In serie B Era parlato anche Dimitrizia In partenza Invece Il tecnico Lo vuole ancora In questa squadra Insomma Io credo che Sia stato un buon mercato Tutto sommato Come no? Adesso aspettiamo Gli ultimi due giorni Se davvero Verre Resterà E se arriveranno Un difensore Un attaccante Forse Verre È il migliore acquisto Che ha fatto il pescato Sì Perché gli era fatto Una gran partita Verre Andrà in under 21 In questa settimana Ha giocato bene Pure alla fine Quando Ha messo i due attaccanti E Mitrita E giocavamo col 4-2-4 Quindi no Lui che ha propensioni Offensiva Ha giocato Cinque nazionali Dunque Ha lasciato Pescaram E Muschai E Manai Con l'Albania Ghiomber Con la Slovacchia Verre E Vittorini In under 21 Allora Mercoledì Si chiuderà Il mercato Mercoledì sera Ci sarà Anche uno speciale Qui su TV6 Noi ci rivedremo Lunedì prossimo Per preparare Questa gara Con l'Inter Non so se Andrea Ha preparato qualcosa Dai social Cosa è Andrea? Sì Enrico Possiamo vedere qualcosa Possiamo vedere Intanto un ex biancazzurro Che sarebbe potuto Tornare in estate Ma ha avuto delle complicazioni Parliamo di Rolando Mandragora La riabilitazione Procede bene La mia partenza lenta Aumenta sempre di più La voglia di tornare in campo Ricordiamolo Mandragora Si è infortunato Nella gara di Chiavari Nello scorso campionato 0-0 In casa della Virtus Entella Ora è alla Juventus Vediamo ancora Zampano Sconfitta Immeritata Ma siamo Sulla strada giusta Forza Pescara Così dice appunto Zampano Che ha sferato anche il gol Del pareggio Proprio al novantesimo Con quel gran tiro Deviato da consigli Vediamo anche Massimo Oddo Un po' di tempo Per capire Tra virgolette La Serie A E le belle prestazioni Avranno il giusto Epilogo E poi ancora Maurizio Possiamo venire Sull'iPad Perché è tornato a scrivere Anche Ugo Campagnaro Con il ritorno in campo Bel gioco Risultato bugiardo Ha postato su Facebook Ugo Campagnaro A te Intanto 1-1 Scusami Finale a Cesena Pareggio nel finale di Ligi Per la squadra di Drago Quindi 1-1 al Manuzzi A te Abbiamo detto tutto Tanti gli anticipi E posticipi Per il Pescara In TV Si ripartirà Da Pescara Inter Domenica Alle 20.45 Ci sarai tu Fausto Certamente A petto nudo Anche le donne Grazie a Fausto Perletta A Riccardo Cricco A Paolo Sinibaldi Che sta per chiudere La sua trasmissione estiva E poi ripartirai Con il format Noi siamo in spiaggia Si chiama Capulco On the Beach Noi fino a metà settembre Andiamo in onda Anche perché non capiamo Perché a Agosto Già si fanno solo trasmissioni E' vero E' vero Però non ha mai invitato Francesco Lo farò per la parte invernale Parliamone Perché non puoi In studio Perché non puoi vederlo in costume No Penso che i nostri telespettatori Non lo so In spiaggia bisogna dare forse in costume Purtroppo si Io mi metto il pandaloncino fino a qua La maglietta larga fino a qua E le gambe Invece il format Le faccio vedere Invernale Scusa Quando ripartirà A inizio ottobre Lì ci starebbe bene Perché vestito Elegante Magari il colore della cravatta E' discutibile Però E quindi anche Federico Magari Di colori diversi Perché il verde non va di moda Il nero verde In questa città Federico aspettiamo Balotelli o no? Avevi detto anche Cassano Prima di entrare in trasmissione Ho detto per dire Insomma Io questi qua Riprenderebbe Questi Se vengono in provincia Per esempio Balotelli Non potrebbe fare E' l'ultima chance Che c'è quest'anno Se proprio Si vede Se rinuncia Se perde questa chance Ha perso tutto Cassano Il discorso è diverso Cassano c'è un contratto Firmato Si allena Eh lo so Però per Balotelli Dipende pure da Raiola Vediamo Raiola sai che spesso Viene qui A Silvi Quindi potreste incontrarlo E convince Grazie ancora Grazie ancora a Maurizio Degui Reggir Andrea Costantini Ci rivedremo Mercoledì sera Probabilmente per qualche speciale Poi lunedì prossimo Con Rplay Domani inizieranno anche le trasmissioni Sulla Lega Pro Andrea Eh sì sì Domani pronti Perché alle ore 21 Si parlerà di Lega Pro In particolare di Teramo Che purtroppo è rimasta L'unica rappresentante abruzzese In Lega Pro Domani a partire dalle ore 21 Con Jacopo Forcelli in studio Grazie a Gaetano G.T.Foto Ad Andrea Maurizio Degui Ci rivedremo lunedì prossimo Grazie per averci scelto Lega Serie A e Team Hanno presentato la Serie A Team Grazie a tutti